Al via le vaccinazioni anti-covid nei due grandi centri vaccinali della costa toscana, al Modigliani Forum di Livorno e al centro fieristico di Marina di Carrara. Il presidente della regione toscana e genugiana ha visitato i due centri vaccinali, prima Livorno poi Marina di Carrara, due strutture che di fatto danno una spinta in più alle vaccinazioni. Quasi 1.200 i vaccinati oggi nei due nuovi hub e in questa settimana si punta a vaccinare 160.000 toscani. Mi sembra che con Carrara e con Livorno il sistema della vaccinazione in Toscana acquisti una forza e uno spessore che non sarà tanto importante questa settimana, ma soprattutto quando noi avremo, e parlo di metà aprile, con i Johnson e Johnson la possibilità di una vaccinazione di massa che però si prepara questa settimana. Perché se finora noi siamo, lo vedete sul sito, a 602.000 dosi somministrate, e sono già un bel numero, 602.000 in Toscana, con questa settimana il mio obiettivo è arrivare a Pasqua o al massimo Pasquetta a 760.000. Nel centro vaccinale livornese al regime massimo possono essere somministrati fino a 1.600 vaccini al giorno in 16 linee vaccinali. A Carrara, 1.400 vaccini al giorno su 14 linee, dosi permettendo. La vaccinazione in questi primi giorni prevede l'utilizzo di AstraZeneca, quindi è rivolta alla popolazione nata tra il 1941 e il 1945. Il presidente Gianni ha voluto anche fare una raccomandazione a chi si va a vaccinare, quella di non arrivare troppo in anticipo per non creare code. Devono venire all'ora, a quell'ora, perché anche se vengono un quarto d'ora dopo, non importa, il vaccino lo fanno. Questo per evitare che si creino poi troppe file, troppi assembramenti, come sta purtroppo accadendo. Nei prossimi giorni sono attese 80.000 dosi di vaccino Pfizer per i medici di famiglia che vaccineranno gli over 80, poi 50.000 dosi di AstraZeneca per i nati tra il 1941 e il 45 e il 30.000 Moderna per i soggetti fragili.